Musica Palermo con Orlando come con Camerata la città è una pattumiera, la RAP non funziona del Presidente Marino cambia il ruolo ad impiegate ed operai della nuova municipalizzata. Commemorato a parte di con l'avvocato Giuseppe Lafranca ucciso dalla mafia 17 anni fa perché non si è piegato ai loro sopprusi. La digaiato è sotto i livelli di guardia, malgrado le abbondanti piogge l'acqua nell'invaso è scarsa, se non si provvede immediatamente in estate potrebbero esserci guai seri per le campagne. In tema di sconti il Palermo cerca nuovi giocatori che piacciono all'allenatore dopo lo svincolato Vitiello si pensa a dare Hernandez al Catania per avere Tacchisitis. Buonasera e bentrovati a Studio TV7, oggi è sabato 4 gennaio. Avete sentito i titoli? Palermo è davvero una pattumiera, è chiaro che parlare è facile, operare è molto più difficile. Il sindaco Orlando ha impostato la sua campagna elettorale denigrando su quanto faceva cammarata e aveva pure ragione perché la città era davvero in ginocchio per quanto riguarda i rifiuti. Purtroppo stiamo constatando che lui, malgrado la buona volontà espressa, non sta facendo di meglio, anzi forse sta facendo peggio. Ha creato questa nuova società, la RAP, che doveva occuparsi del servizio di raccolta ma non è cambiato nulla. E mentre Orlando festeggiava con Max Gazze in piazza il Capodanno, la gente è davvero esasperata e sommersa dai rifiuti. Adesso il presidente della RAP ha trovato i colpevoli dei rifiuti a Palermo, i dirigenti e gli operai della nuova società, allora sta cambiando un po' di nominativi. Palermo è una pattumiera. Il periodo natalizio ha messo in mostra, oltre alle luminarie, anche centinaia di cumuli di rifiuti indecenti. Mentre Leo Luca Orlando faceva festa con Max Gazze in piazza, i rifiuti marcivano agli angoli delle strade. La situazione è identica a quella che si viveva nell'ultimo periodo in cui il sindaco era dico cammarata. Orlando ha impostato la sua campagna elettorale anche denigrando quanto faceva il suo predecessore. Lui, malgrado la buona volontà espressa a parole, in tema di rifiuti sta facendo lo stesso, se non peggio. Ha costituito la RAP per gestire la raccolta, ma evidentemente non funziona. Il presidente Sergio Marino ha deciso di cambiare ruolo ai dirigenti e agli impiegati della società partecipata del Comune, che sarebbero, a suo giudizio, i responsabili della mancata pulizia della città. Nonostante gli inviti, le raccomandazioni e le disposizioni di servizio a firma del presidente, rivolte al personale e ai dirigenti affinché si potessero ottenere risultati soddisfacenti, in un momento in cui la città è già particolarmente gravata da un arretrato significativo, i risultati ottenuti sono deludenti ed è sotto gli occhi dell'intera città. Alla luce dei risultati indecenti, Marino dunque cambia. Si è detto fermamente convinto che occorre rilanciare l'azione dell'azienda adottando una serie di provvedimenti che stimolino i dirigenti, i capi aria, i capi servizio e il personale ad impegnarsi anche in nuove mansioni. Un segno di rinnovamento non può non passare attraverso le adozioni di provvedimenti forti che diano a tutti il segno dell'effettiva volontà di cambiare un'azienda da troppo tempo prigioniera di logiche che non possono mai appartenere a chi deve garantire servizi primari guardando in primo luogo a coloro che forniscono le risorse economiche per il servizio e solo dopo alle esigenze personali che possano passare in secondo piano. Il sindaco Leoluc Orlando ha diffidato formalmente il presidente Marino e il nuovo consiglio di amministrazione della RAP di adottare con la massima fermezza ogni provvedimento anche disciplinare per quanti ieri complici dei guasti AMIA pretendono oggi di continuare in comportamenti viziosi con la nuova RAP e ciò a cominciare dai dirigenti e responsabili di aria sino ai singoli operatori. Intanto la città è vittima degli incendi della spazzatura. Cittadini esasperati ma anche incoscienti la bruciano provocando le nubi tossiche. La notte scorsa altri cumuli di spazzatura sono stati incendiati in diverse strade. i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i rifiuti in fiamme in diverse zone della città. Dai rifiuti di Palermo sui quali però torneremo perché è giusto vederci chiaro e soprattutto scoprire di chi sono le responsabilità. Spostiamoci a Partico dove questa mattina si è commemorato il 17esimo anniversario dell'uccisione dell'avvocato La Franca. una cerimonia semplice in presenza delle autorità civili e militari del paese organizzata dall'osservatorio La Franca. Naturalmente presente oltre al presidente dell'osservatorio anche il figlio del compianto avvocato La Franca. Si è presa coscienza che probabilmente tuo padre 17 anni fa fece capire che comunque bisogna avere coscienza per cambiare la società che allora sicuramente era diversa? Bisogna avere coscienza, tenere la fronte alta e la schiena dritta e soprattutto avere dei valori per poterlo fare. Questo Giuseppe lo interpretava magnificamente. Quindi lui aveva la schiena dritta, la fronte alta e aveva i valori dell'istituzione, il senso dell'istituzione, il senso della legalità. E quindi questo gli è permesso di andare avanti. E quindi questo è il messaggio che passa da andare alle nuove generazioni. Valori e dignità che oggi è più facile avere. Ma a quei tempi, quando i mafiosi facevano quello che volevano, era davvero difficile. Lui ha pagato per questo. Ma è un sacrificio suo che ha insegnato tanto alle nuove generazioni? Sicuramente. Iniziando dai miei figli che erano piccolissimi e a cui ha trasmesso, al di là di questi valori, anche le cose più semplici e più lamentari. Per dire le prime poca linea. E da lì iniziava a proporre poi una serie di cose più grandi. E' una persona magnifica, sempre riservata, che però distribuiva sempre tanta gioia e veramente tanto onestà. Se è un figlio, si chiede, ma poteva evitare papà di comportarsi così? Poteva piegarsi a qualche soppluso? Consigliato che lui non era un uomo dell'istituzione, era un semplice cittadino? No, no, il valore è questo. Certo, se avremmo potuto fermare la mano dell'assassino e avere la presenza di certe istituzioni che in quel momento erano delegittimate ad esserlo e quindi certamente oggi saremmo qua con Giuseppe da Franca e con quello che è l'affetto che ci manca moltissimo. Però, dico, il sacrificio è valso, è valso e quindi la testimonianza, la memoria è questa oggi. Che con i suoi valori, col suo sacrificio, le nuove generazioni devono avere la memoria della storia e per come sono andati i fatti. Io voglio solo aggiungere che mio suocero non ha fatto trapelare nulla in famiglia e che si era rivolto ad un'accusa. Mio suocero si era rivolto all'istituzione, anche a parente, di un certo ruolo. Istituzioni che a quel tempo rivestivano un ruolo importantissimo. Non ha avuto risposta. So solo che mio suocero non l'ha fatto per diventare un eroe perché non era nelle sue caratteristiche. Voleva solo che tutto andasse per la via giusta e si è battuto sempre per la giustizia e la dimostrazione. Io aggiungerei che sono rimasto deluso, lo dico ogni anno, sono deluso intanto del non rinvio a giudizio di Leonardo Vitale considerate delle dichiarazioni che fa la sorella, la pentita Giuseppe Vitale, nel dire che lui è mandante. Anche se per quanto riguarda l'esecutore materiale io ho i miei dubbi. Sarebbe bene che il magistrato facesse dire l'altra mezza verità. E sono rimasto deluso perché allora il pullante mafia, presudito a Caselli, Napolitano, ministro Aglienteni, diede subito la risposta mandando i Vespri, mandando il battaglione dei Carabinieri che ripristinarono la legalità e si ripresero nuovamente il territorio per come andava gestito e per come era quello il desiderio del mio padre che da tempo chiedeva nonostante le proprie dei seggi agannisti. Ci fu la risposta alla presenza di Scalfaro, però non ci fu la risposta che non aspettavo da parte della Procura Repubblica. L'omicidio di Giuseppe Lafranca venne messo nel calderone degli attentati ai progressisti perché non c'era nessun pentito che parlava e quando io nel 98 mi regalò dalla dottoressa in Bergamo mi venne detto che c'era molta omertà a partire nonostante ci fosse la testimonianza di Ignazio De Francisci che diceva come erano andati i fatti. Quindi allora c'era l'istruzione del pentito e se purtroppo ha aspettato i decenni Giuseppe ancora non era giustizia a Giuseppe Lafranca e quindi ci aspettiamo che la Procura finalmente si decisa di rinviare a giudizio il mandante Leonardo Vitale. Si è fatto un augurio che è comune a tutti quando arriverà questo momento in cui i nostri figli ci chiederanno cos'era la mafia? Se arriverà, se sei convinto che arriverà? Sì che sono convinto altrimenti non mi impegnerei come tante altre persone questo momento può e deve arrivare se ci impegniamo tutti, ho detto poco fa cominciando dal basso dai semplici cittadini, dalle associazioni a salire in alto alla chiesa, alla scuola alle istituzioni amministrative però deve essere un impegno di tutti ricordiamo le parole che diceva Borsellino parafrasando una frase di Leonardo Sciascia che un esercito di maestri riuscirà a sconfiggere la mafia ed è vero, se noi ci riflettiamo è vero la mafia è soltanto un fenomeno culturale anzi subculturale e l'impegno nostro e l'impegno di tutti deve essere affinché venga sconfitta questa mentalità mafiosa non il fenomeno mafioso ci sono gli organi preposti i carabinieri e la polizia per reprimere quello su cui noi dobbiamo lettare e lottare è la mentalità delle persone Attenzione agricoltori datevi una mossa, svegliatevi perché sembra paradossale ma la diga di Partinico è senza oggi ce ne siamo accorti in maniera specifica perché per recarci appunto sul luogo della commemorazione dell'applicatola Franca ci siamo accorti che sul ponte della diga non c'è sostanzialmente acqua e ci siamo fatti alcune domande abbiamo fatto un'intervista anche ad uno dei consiglieri di Partinico che si sta interessando del problema della giusta utilizzazione delle acque della diga Iato siamo sul ponte della diga Iato ci siamo fermati volutamente perché ci siamo accorti ma era impossibile non accorgersene che di acqua la diga ce n'è pochissima qui in condizioni normali di solito dovrebbe esserci l'acqua vedete ancora insomma il terreno evidenzia la presenza dell'acqua quando la diga è a pieno regime invece di acqua non ce n'è abbiamo scorto con insomma il piacere che ci sono i fenicotteri e questo ci fa piacere però di acqua non ce n'è allora ci chiediamo considerato che i tempi delle preghiere di Cuffaro alla Madonna per l'acqua sono ormai trascorsi perché di acqua ne piove ne piove tanta l'acqua arriva e fa danno però evidentemente o non viene raccolta nella diga o dalla diga viene usata senza molto criterio ci chiediamo se adesso siamo appena all'inizio di gennaio ha piovuto abbondantemente acqua nella diga non ce n'è in estate come saranno le condizioni dell'invaso e soprattutto il territorio circostante quindi gli agricoltori come faranno a coltivare le loro terre ci sarà da chiedersi se partirà la stagione in rigua ma questo è un problema legato soprattutto a una questione che noi abbiamo già sollevato anche presso i tavoli regionali ricordo un po' a tutti che abbiamo con un comitato di cui è presidente il sindaco di Trappeto chiesto un'audizione all'Ars in terza e quarta commissione ci siamo fatti ascoltare non solo dai gruppi parlamentari ma anche soprattutto dal dipartimento regionale delle dighe e anche dal consorzio di bonifica la questione sono tante ma per esempio questa secondo me dipende anche dalle modalità con cui ormai senza alcun controllo si attinge all'acqua della diga per gli usi civili della città vi faccio un esempio dai dati ufficiali che sono ufficiali fino ad un certo punto nel senso che secondo noi c'è anche poi un dato più reale ancora più grave sui 70 milioni di metri cubi di acqua presenti appunto nella diga soltanto 10 vanno ad uso agricolo e poi tutto il resto superiore ai 35 vanno ad uso civile quindi durante le stagioni senza tener conto anche delle necessità un tempo non era così un tempo c'erano delle quote ben precise che la politica e anche diciamo poi la cooperativa teneva sott'occhio ma il problema non è solo questo sicuramente c'è una mobilitazione inferiore anche direttamente dal comparto agricolo che sicuramente vive una fase di rassegnazione e disillusione però dobbiamo dire che questo comitato qui stiamo lavorando insieme soprattutto al sindaco di Trappeto che ha avuto diciamo la volontà di rispondere a determinate esigenze dei suoi concittadini e si è intestato questa battaglia insieme a noi e alcuni parlamentari più sensibili abbiamo sollecitato un nuovo incontro un tavolo tecnico specifico che la stessa politica aveva invocato dentro l'assemblea regionale siciliana con l'ingegnere greco che è direttore del dipartimento che si occupa delle dighe e con il consorzio di bonifica quali sono le questioni da mettere sul tavolo non soltanto la questione delle infrastrutture e quindi delle tubature ricordo a tutti che nel 2014 è l'anno di partenza di nuovi fondi europei 2014-2020 e ricordo a tutti che soprattutto per quanto riguarda il rifacimento delle reti perché la nostra diga dal punto di vista strutturale poi è perfetta c'è un asse specifico della comunità europea che finanzierà dei progetti quindi ci sarà la possibilità di attingere a milioni e milioni di euro se ci sono i progetti ovviamente ma ci sono anche altre questioni come per esempio quella dei contratti un tempo si facevano migliaia di contratti adesso siamo nell'ordine delle centinaia allora qual è la politica diciamo per riavviare un contatto con i contadini che non c'è più sicuramente non quella di porre dei contratti con prezzi altissimi e con dei vincoli assurdi per cui chi va a contrattualizzare rimane vincolato a vita e viene diciamo depaperato in tempi di crisi bisogna ragionare sulle tariffe soprattutto in considerazione del fatto che l'acqua per ora arriva poco e arriva sicuramente diciamo non in condizioni ottimali e tutti questi obiettivi ce li siamo posti e li abbiamo posti anche alla politica ai più alti livelli è sembrato che la sensibilità ci fosse adesso aspettiamo e quindi invochiamo anche tramite la vostra emittente questo incontro per cui si è preso l'impegno e che dovrebbe avvenire a breve proprio perché purtroppo si è sempre parlato di acqua di digaiato a partire dal mese di luglio allora se decidiamo di ogni anno di fare così allora significa che sono discussioni retoriche prive di senso se ci cominciamo a parlare dai mesi infernali allora significa che si può arrivare ad aprile a maggio a permettere al contadino di programmare all'agricoltore all'imprenditore di programmare anche con delle primizie con quello che si può fare per mantenere un po' di vitalità economica anche all'agricoltura che sappiamo tutti che tempi di crisi vive ci torniamo un po' a quella che è stata la premessa per il primo servizio parlare è molto facile poi far bene su quello che si è detto e sembra per qualche politico estremamente difficile e questo l'abbiamo detto per Orlando in apertura ma potremmo ripeterlo adesso per crocetta perché il presidente ha annunciato rivoluzione al momento del suo insediamento l'ha annunciato per i rifiuti e abbiamo visto come sta andando in Sicilia lo ha annunciato anche per la formazione aveva promesso di effettuare una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo della formazione perché a suo giudizio la formazione è molto utile per ogni regione d'Italia bene intanto la rivoluzione non c'è stata i problemi non sono stati risolti i sindacati che in un primo momento avevano creduto in crocetta adesso dicono basta e preannunciano battaglie serie e continuative è passato tutto il 2013 nella formazione professionale non si è visto altro che perdita di garanzie di posti di lavoro e di mancato percepimento di stipendi l'unica soluzione prospettata per i lavoratori degli enti revocati per coloro i quali hanno visto i propri enti esclusi a vario titolo dall'avviso 20 e per i lavoratori licenziati è quella di un transito al ciapi di Priolo a tempo determinato per soli sette mesi con salari più bassi di quelli percepiti nel passato forse con l'incubo di non incassare mai più nonostante abbiano lavorato gli stipendi da giugno 2013 a gennaio 2014 a denunciare così lo stato dell'avvertenza della formazione professionale in Sicilia sono Giorgio Tessitore segretario regionale CISL Sicilia e Giovanni Migliore segretario CISL Scuola con delega alla formazione l'annunciata rivoluzione del settore si è trasformata solo in un disastro per i lavoratori il sindacato annuncia nuove mobilitazioni i due rappresentanti dicono di non essere più disponibili ad aspettare alla luce dei fatti e dei risultati e vista l'incoerenza e il mancato rispetto degli accordi con il sindacato promuoveranno azioni di lotta durissime e permanenti presso la presidenza della regione coinvolgendo anche il governo nazionale e l'unione europea per smontare l'imbroglio di una falsa riforma e fermare il massacro dei lavoratori da qui le richieste la stabilità del posto di lavoro il diritto alla retribuzione puntuale per i lavoratori e il diritto di non essere trattati come carne da macello da un governo che si dichiara rivoluzionario e che invece senza idee e programmi continua a massacrare la parte più debole cioè i lavoratori siciliani tessitore e migliore aggiungono che il presidente Crocetta gli assessori Scilabra e Bonafede non possono più perdere tempo e devono avviare una fase di riforma seria per la quale i sindacati continueranno a battersi insieme ai lavoratori i due segretari concludono dicendo che la cosiddetta pulizia moralizzatrice posta in essere dal governo Crocetta ha di fatto distrutto il settore senza alcuna idea di programmazione e di riforma lasciando il sistema ancora sotto il controllo della politica dal 2009 i sindacati sostengono che questo è un settore che va cambiato radicalmente ristrutturato bonificato riqualificato ed alleggerito sia come enti che come personale con un progetto pluriannale condiviso mentre il governo ha fatto il contrario nel portare avanti un'azione di concertazione con il sindacato per le vere riforme di tutte e tre le filiere creando di fatto il sistema della formazione professionale in Sicilia si continua ad alimentare il Ciappi in modo spregiudicato senza strategie e prospettive rischiando di farlo diventare un altro carrozzone della regione il solo trasferimento di corsi e finanziamento al Ciappi con la precarizzazione dei lavoratori che da contratti di lavoro a tempo indeterminato dovrebbero passare a contratti a tempo determinato non è la soluzione ai problemi della formazione nell'isola bensì il trasferimento di tutto quello che non funziona da un ente a un altro Comincia a creparsi il muro di omertà che ha contraddistinto la latitanza delle bosse di Castelvetrano Matteo Messina Denaro Lorenzo Cimarosa marito di una cugina del boss arrestato nel brise del 13 di settembre scorso sembra che abbia deciso di collaborare con i magistrati ha detto di non essere un pentito ma di voler parlare perché è esasperato dai continui arresti dalle perquisizioni dai sequestri fatti per arrivare a Matteo Messina Denaro questo lo ha portato al dialogo con i magistrati con i quali sembra abbia deciso di collaborare Lorenzo Cimarosa 54 anni uno degli uomini più fidati del capo mafia trapanese anche perché ne ha sposato una cugina ha spiegato ai magistrati Paolo Guido Marzia Sabella e Teresa Principato il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione che negli ultimi due anni è stato quello di provvedere al sostentamento del boss e della sua famiglia ha raccontato di quando ha ricevuto un pizzino direttamente dal cugino latitante che riguardava la questione del parco eolico di Mazzara in quel caso il boss dava disposizioni sulla spartizione dei lavori per la megastruttura chiamata Vento Divino di cui doveva occuparsi il nipote del boss Francesco Guttadauro arrestato anche lui nel bliz a verbale Cimarosa ha dichiarato che due anni fa Guttadauro gli chiese di prendere il posto del cognato Giovanni Filardo che in quel momento si trovava in carcere per l'operazione Golem 2 Filardo con l'azienda BF costituiva il vero e proprio Bancomat per la latitanza di Matteo Messina Denaro ruolo di Bancomat del boss che poi è invece passato alla sua azienda quella di Cimarosa la MG Costruzioni intestata ai figli che si è giudicata a palti importanti in provincia di Trapani tra cui quello per la realizzazione del McDonald a Castelvetrano negli ultimi mesi Cimarosa avrebbe fatto avere a Matteo Messina Denaro tramite la cassa dell'azienda circa 60.000 euro 8.000 soltanto nel mese di dicembre adesso parliamo di lavoro il centro servizi commercianti coordinato in provincia di Palermo dal ragioniere Antonio Cirabisi comunica che è possibile presentare le domande per i prestiti d'onore e non solo è nuovamente possibile presentare domande per ricevere i contributi e i finanziamenti previsti dalla legge per il prestito d'onore la microimpresa il franchising e l'autoimprenditorialità lo ha comunicato il ragioniere Antonio Cirabisi coordinatore provinciale del CSC che è il centro servizi commercianti che dichiara l'importanza di questi strumenti che costituiscono i principali aiuti alla realizzazione ed all'avvio di piccole attività imprenditoriali e professionali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione con il prestito d'onore è possibile avviare attività in forma di ditta individuale con investimenti complessivi previsti fino a 25.823 euro le iniziative possono riguardare qualsiasi settore produzione di beni fornitura di servizi commercio con la microimpresa si potranno intraprendere imprese costituite in forma di società con investimenti complessivi previsti fino a 129.000 euro le attività finanziabili possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di servizi il commercio in questo caso è escluso con il franchising si potranno avviare attività sia in forma di ditta individuale che di società da realizzare con il franchisor accreditati con Invitalia lo scopo dell'auto imprenditorialità è quello di agevolare i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni che vogliono creare nuove società o ampliare società già esistenti per iniziative da realizzarsi esclusivamente in alcuni comuni tra questi nel territorio ci sono i comuni di Capaci Carini Cinesi Corleone Isola delle Femmine Monreale Palazzo Adriano Palermo Piana degli Albanesi San Giuseppe Iato Terrasini e Torretta con questo finanziamento potranno essere sostenuti investimenti fino a 2 milioni 582 mila euro per la produzione di beni e investimenti fino a 516 mila euro per la fornitura di servizi oggi cominciano ufficialmente i saldi e in tema di saldi il Palermo sta facendo il suo mercato ha preso a prezzi scontati Vitiello un calciatore dell'ECS Siena svincolato e adesso cerca altri rinforzi per Iachini è fondamentale rinforzare le fasce poi dovrà pensare alla regia al centrocampo che in questo scorcio di campionato in questa prima parte del campionato sembra il reparto più carente adesso pensate si ipotizza uno scambio con il Catania addirittura per il capocannoniere del Palermo Hernández che potrebbe andare in rosso-blu obiettivo principale di Beppe Iachini in questo mercato di riparazione è quello di sistemare le fasce evidentemente Morganella Pisano né tantomeno da prelà hanno soddisfatto il mister e l'ECS Granata Stefanovic è troppo difficile da collocare tatticamente per assicurare un rendimento costante quindi Perinetti deve concentrarsi su nuovi laterali uno è già arrivato Roberto Vitello e che se siena oggi svincolato a 30 anni è salernitano difensore di fascia che non disdegna le puntate offensive non è certamente il giocatore che può risolvere la situazione ma ha il vantaggio di conoscere Iachini per essere stato un suo giocatore quindi sa cosa vuole il mister dai terzini e poi costa pochissimo l'altro obiettivo rosa nero si chiama Cristiano del Grosso terzino sinistro dell'Atalanta anche lui 30 anni però ha quasi 200 partite in Serie A sulle spalle sia del Grosso che Vitello hanno tante caratteristiche in comune che Beppe Iachini apprezza molto entrambi tra l'altro giocavano nel Siena ai tempi di Sannino per il centrocampista di regia si complica la rincorsa a Donadelle perché il Verona ha sparato alto quello che sembra più a portata di mano resta Gazzi un altro trentenne attualmente al Torino nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi di uno scambio sull'asse Palermo-Catania Hernández ai cugini che in cambio darebbero Tacchisidis sembra uno scambio possibile intanto è sicura la partenza di Bacinovic che andrà a Cesena o a Modena e dopo tanti mesi di stoppe Aronica sembra vicinissimo alla Regina con il calcio abbiamo chiuso il Tg di oggi io vi ricordo che torneremo in diretta martedì prossimo perché lunedì saremo fermi per la festività della Befana quindi ancora auguri a tutti grazie per aver scelto Studio TV7 appuntamento rinnovato a martedì prossimo arrivederci